Un attimo, quel biglietto? Ma cosa mai... Un attimo, un attimo, un attimo! Va bene. Pare che si aspettino che mi sieda sulla loro bella sedia. E adesso cosa... Preparati, pellegrino. I lacci sono per la tua sicurezza. Che diavolo succede? No, no, no! Dannazione! Ascensione. Ascensione tra cinque. Quattro. No, 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 no! Tre. Due. Uno. No! Ascensione. Ascensione. Vabbè... 1.500 metri. 3.000 metri. 1.500 metri. 5.000 metri. Alleluia. Cosa? Unutra si. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì.